No, quando lui fa così deve rimanere sulla gamba, hai capito? È un po' di più. Grazie per la visione è qui è inizia si è inizia si è inizia inizia sì questo mi piace non è bene 3 Sì, ok... Ok, vieni qui! Sì, vieni qui! Ok, vieni qui... Sì, vieni qui! Vieni qui! Ok, vieni qui! Ok, continuiamo! 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 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 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 17 18 18 20 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 21 22 Grazie a tutti.